Eccomi, sono la serva del Signore, ma venga di me ciò che hai detto. L'ora in poi, tutte le generazioni mi chiameranno Beata. Lui, il cui nome è santo, ha posse in me la sua potenza. Sono in cerca di un alloggio, c'è qua fuori mia moglie che sta per... Niente da fare Maria, ma tranquilla che un alloggio la troveremo. Riposati un minuto, io intanto oggi accenderò un po' e rimarrò a vegliare sul di fatto. Non allontanarti. No, non mi allontano, rimango qui a vegliare sul di fatto, tranquillo. Fuori, mi sentite? Fuori dai piedi. Non vedete che c'è un bambino appena nato? Per questo siamo venuti qui, qualcuno ci ha detto di cercarlo. Qualcuno? E chi? Eravamo fuori con le peclare, volevamo a salutare anche il suo Cristo. Allora, stanotte il pastore è nato. È nato per voi, per i poveri, per gli inverigli. Accetta questi ruoni in segno di omaggi. Incensi che profuma la rimura dei pochetti. In coro, il dettaglio vera. Mirla, prezioso erdo, io rientro e amaro. Grazie. Possa il Signore benedirvi tutti, possa il suo volto illuminarvi, possa la sua misericordia darvi la pace. Grazie. 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 Grazie.